Sì sì Lucia ti sento, siamo arrivati qui a Motta di Livenza in provincia di Treviso, quella che vedete alle nostre spalle è la facciata del santuario della Madonna dei Miracoli, un'apparizione avvenuta qui il 9 marzo del 1510, ma non ha dei miracoli perché già dal giorno stesso un prodigio, tre giorni dopo il podestà del paese venne guarito da una lunga malattia cronica e da lì tantissime grazie che sono arrivate fino ai giorni nostri, testimoniate anche dalla grandissima galleria degli ex voto. Saremo qui tra pochissimo per raccontare l'apparizione e per capire anche che cosa lega la Madonna e il santuario che stiamo visitando all'ordine francescano, Maria e San Francesco, credo che sia un bel programma, a tra poco.